I materiali con cui si costruisce la musica elettronica sono estremamente semplici, si tratti di tre tipi di onda e del rumore veronico. E del rumore bianco. Onda quadra trasformata con modulatore ad anello. Mistura di onde quadre. Piagge il rumore bianco. 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 I materiali con cui si costruisce la musica elettronica sono estremamente semplici, si tratta di tre tipi di onda e del rumore bianco, tre tipi di onda e del rumore bianco, tre tipi di onda e del rumore bianco. Rumore bianco filtrato per ottaveri. 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 Rumore bianco filtrato per ottaveri.